Io sono con la mia amica della pelliccetta scagnata Fai vedere la pelliccetta? La picca a noi? Guarda Guarda, guardate Ma voi la prendete in giro in internet Diggielo che non ti devono prendere in giro La devono smettere perchè non è capitato a loro Diggielo, ce la fai, stai in punta di piedi Vai su, vai Ecco, ecco La devono smettere perchè non è capitato a loro E quindi E' inutile che commentano Che commentano Cosa ti hanno fatto? E così vi devono prendere Perchè dopo il disagio Devo subire pure tutte queste cose E non è giusto Che cosa ti hanno fatto? Quanti te ne hanno fatti dentro al negozio? Io ho visto tre video Che sono stati già pubblicati da Facebook Io ti amo Io ti amo Da Facebook Non capite che non si può non amare questa donna? Su Facebook Io ti amo Io ti amo Io ti amo